Musica E' mercoledì 19 giugno, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolisi in apertura. Parliamo del caldo che non è solo emergenza incendi ma anche emergenza idrica. La disponibilità rilevata dell'invaso e della dica di Occhito al confine tra Puglia e Molise è quasi al 50% al di sotto di quella registrata esattamente un anno fa. Intanto Molise Acque ha lanciato l'allarme scrivendo alle prefetture e comunicando che si sta registrando un calo nell'erogazione delle sorgenti profonde e superficiali. E ci dice tutto in questo servizio Tonino Danese. Guardia alta sul fronte della carenza idrica in Molise. Il livello della dica di Occhito è in questi giorni quasi al 50% al di sotto di quella registrata nello stesso periodo dello scorso anno. Sono dati rilevati dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia. Si è passati dai quasi 241 milioni di metri cubi di acqua del 2023 agli oltre 127 milioni adesso. Dal recente rapporto diffuso dalla community Valore Acqua per l'Italia risulta che Molise e Puglia sono tra le 12 regioni italiane a elevato stress idrico. Le preoccupazioni che emergono per Occhito sono analoghe a quelle per il liscione dove il livello si è abbassato di un metro e mezzo nell'ultimo mese per via dell'assenza di piogge. Il presidente di Molise Acque Stefano Sabatini ha dichiarato che sono in corso verifiche tecniche per adottare ulteriori misure in collaborazione con i sindaci locali. È urgente intervenire, ha detto, per evitare una crisi ancora più profonda nei prossimi mesi di cui l'invito a utilizzare l'acqua potabile solo per igiene personale della casa evitando sprechi. Come si legge in una nota inviata dall'azienda, speciale dal dirigente dei servizi tecnici Carlo Tatti, alle prefetture di Caserta e Avellino, il Molise sta affrontando una grave crisi idrica con sorgenti a secco e una domanda eccessiva proveniente, oltre che dal territorio, anche dalla Campania, regione alla quale viene ceduta una quota della risorsa. Molise Acque ha informato che da metà di questa settimana si effettueranno regolazioni per limitare lo svuotamento dei serbatoi e delle condotte. Visti i consumi e la situazione, di fatto, è quanto mai necessario effettuare chiusure notturne delle reti idriche di distribuzione, si legge ancora nella nota. La richiesta idrica eccessiva e il calo delle sorgenti stanno causando un elevato stress sugli impianti, con guasti frequenti, e le misure di contenimento sono dunque fondamentali per affrontare l'emergenza, anche perché siamo ancora a giugno. Cambiamo argomento. Oggi partono gli esami di maturità con la prova d'italiano. Il presidente della regione, Francesco Roberti, ha espresso i suoi auguri a studenti, docenti e a tutti i componenti delle commissioni d'esame. Il mio consiglio, ha detto, è quello di affrontare l'esame con serenità, fiducia e determinazione. Ai ragazzi dico di superare l'ansia e di affrontare le prove con quell'impegno ed entusiasmo che, ne sono certo, non sono mai mancati in questi anni. Ai docenti che hanno seguito i nostri studenti, invece, ha continuato Roberti, va in ringraziamento per l'impegno, la dedizione e la passione con cui li hanno guidati. Alle poste di Larino si è svolto un incontro per presentare Spazi per l'Italia, un'area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Francesco Di Giacomo. La seconda linea di intervento del progetto POLIS Spazi per l'Italia prevede di mettere a disposizione 250 spazi su tutto il territorio nazionale, 80 dei quali saranno attivati in comuni con meno di 15.000 abitanti, convertendoli a spazi di co-working di dimensione piccola, media e grande, tutti interconnessi tra di loro al fine di costituire un'unica rete digitalizzata e smart. L'obiettivo è quindi di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese. Postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta a privati, aziende e alla pubblica amministrazione, oltre che all'università e ai centri di ricerca. Alla presenza del sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, e di una rappresentanza di cittadini, di associazioni di categorie e di imprese locali, la referente della struttura immobiliare di poste italiane, Roberta Sacchetti, ha presentato e descritto il nuovo spazio di via Oppalco, scelto da poste italiane, come primo in Molise e come uno dei primi dei 250 in tutta Italia, nell'ambito del progetto per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi. Pazzi per l'Italia è una delle anime del più altro progetto Polis, con il quale poste italiane ripanisce la propria esenza sui territori, che è una vicinanza alle comunità. Nello specifico Spazi per l'Italia si vuole l'obiettivo di dare un contributo sociale ed economico alle realtà locali e alle categorie di professionisti o piccoli imprenditori e giovani start-up e aiutati nell'attivazione senza oneri e investimenti iniziali della propria attività. L'area di via Oppalco dispone di un ufficio privato per due persone e di un open space con quattro postazioni, oltre a un'accogliente area break. L'offerta commerciale degli spazi per l'Italia include tutti i servizi, arredi degli uffici, connessione internet wifi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Con questo ulteriore servizio Larino entra dunque a far parte della rete di spazi per ufficio più diffusa e accessibile del Paese, un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di innovazione e crescita economica del Paese. Ringrazio Poste Italiane per questo progetto che è stato pulito fortemente in questa comunità. Noi l'abbiamo apprezzato e è fondamentale per poter garantire un maggiore sviluppo del tessuto economico e produttivo della nostra città, del tette circondare. Ed è tutto per il nostro TG del mattino. La nostra rassina stampa adesso che iniziamo come di consueto con i titoli del giornale del Molise.it. L'apertura è dedicata alla politica, ballottaggio a campo basso, lite tra centro-destra e centro-sinistra sulla composizione del nuovo Consiglio Comunale. L'Avvocato Giuseppe Fabiano Eretto, nuovo coordinatore nazionale del Dipartimento Sport e Sostenibilità del Centro Studi, CETRI, TIRES, iniziative poi in occasione del Centenario della Lascita di Michele Trevisonno e poi dati della Banca d'Italia in Molise nel 2023, crescita sensibilmente rallentata. Un vasso incendio sulla Trindina in territorio di Rocca Vivara, vigili del fuoco in azione anche con elicottero e poi c'è il rapporto della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, fascia di reatiche in Matese Sannio, fianchi deboli del Molise. Siccità per affrontarla col Diretti Molise rilancia l'idea dell'invasia artificiale e poi gravina il Consigliere regionale che commenta il rapporto della Banca d'Italia, necessario un nuovo modello di sviluppo per il Molise. Nella sezione editoriale vi segnaliamo oggi il contributo del collega Pietro Cola Giovanni, che è questo, varie ed eventuali, lo spread e gli spingitori di spread. Il risultato delle recenti elezioni europee sta avendo ripercussioni pesanti sui mercati e sulla finanza mondiale. L'apertura all'inizio dell'articolo di Pietro Cola Giovanni sul giornale del Molise.it Vediamo adesso l'eco dell'alto Molise, eccola qui. Crisi idrica alle porte, l'appello del comune di Agnone ai cittadini, non sprechiamolo, ovviamente l'acqua. Dele che Forza Italia è partito democratico, greco in provincia, siglato il patto del Nazareno in salsa molisana, e poi Fontana di Maiella, Rotary Club in prima linea per il restauro, ma da solo non ce la fa. Le vie della lana attraverso il Molise, per svelare al mondo la cività della transumanza, e poi Arte Bianca, Antonino Patriarche, Mario Porrone, Panettieri da Gambero Rosso. 2025, progetto Life, ponte tra culture per l'inclusione sociale, studenti americani salutano l'alto Molise, Pesco Pennataro, Carmen Carfagna, non ci sta, Sciugli, Lascio, il comune in predissesto. E poi provincia di Senni, assai a segnale deliche tra i destinatari, Facco Falcione, Dall'Olio e Paglione. La star di Hollywood, Sir Sir Ronan, quattro volte candidata agli Oscar e poi in vacanza ad Agnone. TermoliOnline.it, l'apertura a lungomare Nord diventa un cantiere, non è possibile creare così tanti disagi a giugno, scrive il giornale raccogliendo ovviamente alcuni commenti, e poi la morte della dottoressa Patrizia De Palma, lutto a Termoli. Vado fuori, diamo il benvenuto ad un locale a basso, e poi si firma rinnovata la convenzione fra il circolo Tennis Termoli e il comune, lo sfalcio che si fa attendere, troppo il decoro urbano deve essere una priorità. Ancora braccio di ferro, vertenza GTM, mili di noi dalla parte dei lavoratori, Balice risponde, poi affrontare l'esame di maturità con serenità, fiducia e determinazione, è il messaggio del Presidente della Regione Roberti, questi titoli in evidenza su Termoli Online. I quotidiani cartacei in edicola, adesso partiamo da primo piano Molise, andiamo a leggere i titoli, l'apertura, inflazione e calo demografico frenano l'economia del Molise, l'apertura è dunque incentrata sul rapporto di Banca Italia, in chiaro e scuro il rapporto annuale di Banca Italia, aumentano gli occupati, ma ancora sotto il livello pre-pandemia, diminuisce il potere di acquisto, spesa dei fondi PNRR, ok, si registra un'ulteriore riduzione degli sportelli bancari, interrotta la crescita del credito a imprese e famiglie. Il punto, ballottaggio, abbassate i toni e fate parlare i fatti, a firma di Romano Mignogna. Ancora al cartarelli, cambio al vertice di medicina, il professor testa nuovo primario, e poi con Campobasso riconteggiate le preferenze, poca differenza sui dati già noti, Macchia di Sernia, auto contro camion, 19 anni trasferito a Napoli, Neli Ambulanza, e poi Foggia ci considera un appendice, Venafro crucivia degli stupefacenti. La relazione semestrale della DIA conferma l'interesse della criminalità organizzata confinante per il territorio molisano, purtroppo. E poi Venafro, la festa di San Nicandro, giù il sipario, numeri record per Clementino, show del rapper in piazza, pubblico in visibilio, per quello che è stato un concerto, a quanto pare molto seguito, sotto la testata Campobasso, calcio piccirilli, una stagione perfetta con ciliegina sulla torta finale, i serni e i pentri si preparano a un girone tosto, ci saranno anche Teramo e Recanatese, calcio regionale, definiti gli organici 2024-2025, in attesa delle iscrizioni. E' il tema del giorno, quello del primo sì al premierato, apre il correre della sera, arrivo il primo sì al premierato, il testo approvato in Senato, Meloni alla fine dei giochi di palazzo, Conte, Replica, Grillo, scontro sul futuro del Movimento 5 Stelle, la protesta delle opposizioni in piazza, nomine all'Unione Europea, spaccatura tra i 27, sul peso dell'Italia. E poi vedete Mattarella da Mosca, una tempesta di fake news, l'allarme del Colle, e poi lo scenario, verde a destra, due fronti per Wondelleyen. La misura contestata, redditometro, slitta per ora l'abolizione. Poi Campioni, Goggia sull'isci dopo quattro mesi, avanti così servirà a tempio, dice la campionessa italiana, e poi Jacobs torna a volare, 9,92, e solo l'inizio, ora i giochi, un tempo che fa sperare, soprattutto in vista delle Olimpiadi. Anche la Repubblica riforma il fronte della Costituzione, a maggioranza la destra, approva in prima lettura al Senato il premerato, ed entro oggi farà diventare legge definitiva, l'autonomia differenziata, le opposizioni unite in piazza a Roma, Schlein a Bracciaconte, fermiamo la riscrittura autoritaria della carta e i finti patrioti che spaccano il paese. Ecco questa la foto della manifestazione di ieri in piazza Santissimi Apostoli, promossa dal PD. Contro premerato e autonomia differenziata, il commento di Francesco Bei, vedete, con in mano il tricolore. Da Repubblica andiamo a vedere anche i titoli della stampa, anche qui premerato sì del Senato, Schlein carta in pericolo, si parla però anche della nuova Commissione europea, nomine europea, lo sfogo di Meloni, non possono isolare l'Italia. E poi al centro pagina vedete l'abbraccio dei dittatori, Putin vola in Corea del Nord e vede Kim per chiedere mano d'opera e 5 milioni di armi. Questi titoli principali della stampa vediamo anche quelli del Sole 24 Ore, taxi l'apertura a solo 15 mila euro dichiarati al fisco, anche in presenza di boom di turisti. Redditi lordi l'anno, dichiarati 19 mila nel capologo milia euro, ovviamente nel capologo Lombardo e meno di 10 mila a Palermo, a Roma una licenza vale 73 mila euro, a Milano 96 mila e a Bologna 150 mila. Focus dunque sul mondo dei taxi e poi ci sono i numeri dell'osservatorio Proger, 5,5 miliardi sono i metri cubi di acqua da prelevare nel 2027 per soddisfare la domanda globale del pianeta e poi 110 mila le imprese agricole che usano almeno una tecnologia integrata con l'intelligenza artificiale. Questo è il titolo, acqua, l'intelligenza artificiale, fa esplodere i consumi. Borse in rialdo, in via supera Microsoft, i mercati finanziari, il big dei chip, la società che vale di più al mondo, cala l'attenzione sull'e-spread. Dal Sole 24 ore vediamo anche i titoli di avvenire, riforme al dunque, il fatto, primo sì del Senato, ovviamente alla riforma sul premedato, alla Camera accelera l'iter per l'autonomia differenziata, le opposizioni in piazza. C'è poi questa fotonotizia, rapporto ai civili, sempre più vittime delle guerre, l'ONU aumentati del 72% i morti, e poi migranti, naufragio, oltre 60 dispersi, una missione europea. Nalina, la più piccola salvata a largo della Calabria, ha perso i genitori. Vediamo anche gli editoriali, l'editoriale di Fabio Carminati, tutte guerre a donne e bambini e poi ancora strage sulla rotta turca, non li abbiamo ascoltati. Da venire andiamo a vedere anche i titoli del Fatto Quotidiano, doppia apertura, titolo principale, e questo tutto in deroga. Un G7 da 100 milioni, appalti segreti e opachi, la delegazione non pubblica, cifre e aziende. Per quanto riguarda ovviamente tutti gli affidamenti fatti in occasione del G7 in Puglia, Schiforme, dice il Fatto Quotidiano, premerato primo sì e prima piazza di Schlein, Conte e Compani, la Lega vuole già modificare e spinge per l'autonomia questi titoli principali del Fatto Quotidiano. vediamo anche Libero, che invece titola così, tre schiaffi alla sinistra, la piazzetta rossa non ferma il governo, minima manifestazione dell'opposizione contro l'autonomia, differenziato ovviamente, è sinata intanto a prova la riforma del premierato. Nella Unione Europea avanza la linea Meloni, i socialisti tremano ovviamente di taglio diverso i titoli e le notizie riportate da Libero. l'ex premier Beppe non decide più fuori chi è di destra, tra Grillo e Conte, ora volano i Waff. E poi l'editoriale di Mario Secchi, quei democratici a targhe alterne. Supercazzole di Schlein, il dizionario di Ellie da bifobia a fascisteria e poi sequestra Europa, la legge verde passata contro il volere popolare. Ancora da segnalare, le comiche sui giornali, per i compagni, Giorgio ha perso, comunque vade. Poi giochi dell'Eliseo, premio a Scurati, così Macron provoca l'Italia da Libero. Andiamo a vedere anche i titoli del messaggero di Roma, anche qui l'apertura è sul premierato con il primo sì, ma si parla anche di Europa. P.P.E. diviso, coalizione Ursula, quota 406, nomine Unione Europea, Weber, Ape a Meloni, sorpasso dei conservatori su Macron. E poi il monito, intervengono Bruxelles e Nato, Mattarella, fake news russa in Italia, agire subito contro la destabilizzazione. Poi vedete, la figlia va in fere e la madre invalida, muore distenti, il dramma alle porte di Roma. L'anziana senza cibo, né acqua, la donna agli arresti. E davvero queste sono notizie terribili. Vediamo adesso anche il manifesto. Doppia apertura, con il titolo principale, che lo troviamo a centro pagina, molto bello, come al solito, la Premier, opposizioni di sinistra per una volta insieme a Roma. La piazza non è grande, ma è piena e chiede un fronte popolare contro la destra. Ci sono volute le botte in Parlamento e l'attacco alla Costituzione. Ieri, il primo sì al Premierato, avanza l'autonomia differenziata. E' quindi un titolo che gioca sul nome della riforma, appunto il Premierato, ma anche sulla Premier, che è la prima manifestazione in piazza contro le decisioni assunte a livello parlamentare dal Governo. Israele chiede, Washington concede, Blinken rimuoveremo i colli di bottiglie, il Congresso pensa all'invio di armi ed F15. Maturità, inizia la prova generale di merito e disciplina, Tribunale di Roma incostituzionale, decreto all'Italia, poi l'inchiesta Giovanni Meloniani, Giovanni Meloniani, ombre su estermiele, poi ASE a nozze omosessuali. Stori così in Thailandia, vediamo anche il secolo d'Italia, primo sì al premierato Democrazia più forte l'editoriale di Stefania Campitelli e poi l'operazione Allerchino è un blef, Unione Europea vuole cambiare volto, super bonus da Banca Italia, la verità su un mega buco di Conte, poi Italia Viva attacca la Schlein, una supercazzola sulla sanità. Vediamo anche la Gazzetta dello Sport, che apre con il tempo di Marcel Jacobs sui 100 metri, che frecce sui 100 verso i giochi, Giacomo Zasogno, più veloce di così solo a Tokyo, ali secondo italiano di sempre, 9.92, un ottimo tempo e poi domani intanto c'è Italia-Spagna per gli europei, duelli d'Italia, quattro balottaggi nella testa di Spalletti, Darbian di Lorenzo, Mancini-Calafiori, Cristante-Pellegrini e Rettiguis-Camacca. Sinner in venda un colpo da numero uno, rimonta a show sull'erba, ieri la vittoria, poi Inter-Martinez, il vice Sommer, l'uomo chiave e Satriano. Ecco la Gazzetta Sportiva, si chiude la segna strampa dei quotidiani, questo primo appuntamento con l'informazione di Teleulise, che torna in diretta alle 14 con il telegiornale. A voi tutte e tutti, grazie e buona giornata. Grazie a tutti.